Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui al Tennis & Friends insieme al bravissimo Fabrizio Pacifici. Grazie Cristian, allora come da tradizione dobbiamo lanciare il prossimo evento che sarà il microfono d'oro, la nona edizione del microfono d'oro, questa manifestazione dedicata a tutte le trasmissioni radiofoniche più seguite e più popolari, quindi l'appuntamento è per venerdì 7 giugno ore 18 all'Alpeus, Planet Roma Ore, ingresso libro, ovviamente tantissimi artisti, Claudio Litti, Fabio Gagnino, Giovanni Veronesi, Carmen Dimietro e tante altre sorprese, quindi nona edizione, va bene come cassa no? Va benissimo, non potete mancare con un cassa d'eccezione. Presenterà insieme a me Cosentaturco, quindi venerdì 7 giugno, la nona edizione del microfono d'oro. Non manchiate, ciao!